ok regolamenti fatti posto scusate che ho fatto partire il video prima di sistemare il tablet perciò siamo partiti con delle due buonanze vediamo subito come si vede lo schermo ben fatto ciao a tutti ragazzi ragazzi sono già benvenuti in questa visione oggi siamo entrati su legge di pokemon anche adesso stavamo bloccato non mentre stavano legge di titolo ma prima l'ultima volta perché avrei seguito i discorsi bisogna direvamo terminate il capitolo quanto avevamo incominciato il capitolo 5 proprio appena appena perché c'eravamo come al solito come al solito fermate completare le varie secondarie che erano puntualmente saltate fuori perché ogni volta che termina un capitolo state fuori delle secondarie e abbiamo visto ma appena perciò solo l'inizio del capitolo 5 che sarà ambientato nei ghiacci candidi ossia l'ultima regione il ciò che non piacere sta a vedere non che la piostere di tutte perché per l'appunto è ambientata a nord delle zone in cui poi dopo ci sarà la modello signo neve poli eccetera eccetera l'ultimo lo abbiamo terminato lo scorso episodio per la precisione catturando l'ultimo membro della squadra che è questo qui zogua che come avevo vi avevo anticipato ora si è voluto in zona che guardate che figo che è e non solo è voluto zogua in zona che ho provveduto anche ad allenare come avevo permesso un pochino la squadra perché se vi faccio vedere che cosa ok perché se vi faccio vedere la squadra vedete che tutti quanti sono salire leggermente un pochino di livello vedete sarà molto a 60 beautiful 57 si fa 58 gaga 59 pur sulla 59 addirittura per zogua anche per riuscire a farlo salire velocemente di livello salire lo stesso però non salire velocemente o stesso livello degli altri certo punto ho ottenuto scuoto solamente lui ne mette che completavo altre poche pagine del poker ex perché gli ragazzi c'è tanto detto completare pagina del poker ex e sono arrivata a completare ben 182 pagine ora se vedete che sono 182 su 184 perché come vedete bene qua ieri sera per la precisione ho catturato un piplup come ultimo poker intendevo completare la sua pagina assieme magari la pagina anche di primplup e in polo naturalmente tuttavia se l'ha fatto tardissimo avevo praticamente completato pagina su pagina per tutta la giornata bicicletta io ho detto vabbè questo piplup mi lascio la sua pagina e quelle delle sue evoluzioni da completare per la prossima volta che avrei registrato oggi ragazzi attenzione di terminare subito il capitolo 5 tuttavia ci tocca fare un altro rewind delle pagine che ho completato off camera perché naturalmente 182 pagine in totale completate la scorsa volta avevamo 160 qualcosa ho completato parecchie pagine perciò almeno una ventina inoltre ho completato altre missioni secondaire quindi partiamo subito sempre nella galleria qui dei spettacolati della nintendo switch per leggere e aprire le pagine poche le completate e vederci anche le varie clip che mi sono registrate a lunghe 30 secondi su le missioni secondaire che ho completato off camera partiamo con misdreavus che in realtà potevamo in realtà ea con risultava completata la pagina già dalla fine dell'episodio scorso solo che non avevo fatto il rapporto professore rave quindi ho fatto scrissuto dopo la pagina completata di misdreavus poche vostri di tutto il prospettio si girano e buio e geme come un infante quando giurisce del terrore che cagione i viandanti le rosse sfere del collo brillo sinistramente se sentite che ho la voce un po' così perché questa stagione per me fa schifo a avere l'estate perché senza offesa mi piacciono avanti il sole eccetera eccetera tuttavia è il periodo in cui la roba qui sono allegica sboccia quindi poca vacca e per te ha dato qui si questa è una clip in cui non faccio vedere assolutamente niente se non la mia ombra che galleggia perché 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 spiegatevi perché questa cosa fisica vabbè poi pagina completata di snorant pokemon cappelnevi si prese con le prime nevi si crede che apporti ducchevole prosperità alle case o si manifesta ed uso frighi di ghiaccio d'acqua pura sull'uscio va bene poi qui avevo completato la richiesta di maverton ammetti di audi li ho fatti sfrecciare uno dopo l'altro perché volevo che trassi tutti 30 secondi perciò devo mettere in pausa per leggere lì ciao di fatica abbiamo per il lucro con me puoi star sicura che ti acconcio per le feste la tua richiesta a me ha portato un misdavus per quando ho finito di vedere il clip devo darvi devo dirvi delle ultime cose sulla squadra che ho fatto perché non solo le ho fatte salire di livelli i miei pokemon ma gli ho anche fatto dei miglioramenti ma vi spiegherò meglio più tardi tutti hanno paura di misdavus perchè dicono che piange di notte ma se volto vicino il suo fascino guardalo con il frutto atteggiando nell'aria con la chiama ondulata che sogno ah mi ha voluto un'illuminazione le vedo chi ha il come il sole accorciatore superbe con tinte perfette e tutto grazie a te misdavus posso concentri l'onore di essere la prima a provare le mie nuove accorciature se vuoi poi dopo mi ha chiesto subito un'altra richiesta ossia la richiesta in cui voleva invece a vedere che io li ha però non ho ancora completato a questa richiesta e quindi niente da catturare un chile a quello ci persona tratta un altro che corto di idee qui rischio il corto circuito tutti i tagli che mi vengono in mente mi sembra un po tirate per i capelli amato spunti sempre giusto da aspetta amato giusto spunti sempre giusto giusto al capello sempre battute senti un po mi serve una mano cerco idee per delle nuove accorciature ma questo blocco creativo non mi dà tregua con il tuo aiuto potrei darci un taglio vorrei di nuovo prendere lo spunto dei pokemon ad esempio chile mi ispira tantissimo osservandolo da vicino potrei creare accorciature da strapparsi i capelli il stesso buono intendo quindi dai se catturare un chile torna qui a mostrarmelo e niente poi dopo che è successo che a parte il mio stealth fatto malissimo qui sono andato a prendere con la fiammella che vedete la in fondo come sono arrivata in questo punto delle petici corona avete pensato i punti che abbiamo portato andy bene sulla sinistra ci sono se ci sta il sentiero memore dei sempre dritto sempre seguite sempre detto arrivata questo maghetto il coi gay dos invece che ci sono arrivata alice al tratto in misba un misbaglio sa perché poi ho catturato per copertare la sua pagina le poche lex come per cui ci sono arrivato aspettate un altro che c'è un blocco ci sono arrivato scendendo la cascata della dalla ghetta che avete visto prima nella clip precedente sono uscita dalla cascata per solo che salita arriva e mi sono ritrovati in alcuni sentieri cui c'è il un gol e mappa e più c'è anche per sono arrivata anche questo sentiero a quest'altro settore questi stava ci sta a misbaglio sa fa vabbè non so spiegarmi in altri termini poi come trovata la posizione di classe un po' che una neve fresca è in grado di ridurre ripetitamente la propria temperatura comporia gela l'aria facendo nindi turbinare esili granale di ghiaccio a fine germe poi lì sono poche orgoglioso nel suo velo ho rivenuto cellule analoghe a quelle vegetali la coda robusta affilata più una sparta pregiata fuori cide alberi massicci poi perché ho comprato la pagina di volto poche mosfera e tra l'altro per volvo in elettro dopo però ho scoperto che mi serve anche per lui una pietra foglia che ho recupero la persona detto ginkgo ora trovo per buro che poi la trovo per puro caso o ho scoperto che esiste il cento scambi tra virgolette di oggetti a e quant'altro a villaggio giubilo dove possiamo scambiare con punti di attitudine ogni volta che troviamo oggetti sbarriti possiamo scambiare degli oggetti con per appunto questi punti che otteniamo quando troviamo degli oggetti sbarriti o degli npc per l'appunto o di persone online però vabbè insomma intendo fare o accorre abbastanza punti da per l'appunto compriamo una pietra foglia però devo vedere perché la pietra foglia ho supposto che si potesse ottenere anche normalmente l'acquitivo vermilio per via del fatto che damon c'aveva olifero ma va bene perché il team diamante sta all'acquitrina avevo dedotto che se abbiamo trovato la pietra gelo ai ghiacciai e la c'è il campo del team perla e per una c'è un glassio ho dedotto che allora l'acquitino visto che c'è il team diamante damon c'ha un l'ifero si può trovare già quella metà pietra foglia per evi ed è proprio l'ifero vabbè pokémon sfera enigmatico pokémon da accidentare simiglianze con le pokémon più si galvanizza più rilascia corretta elettrica immagazzinata e venti ridendo di gusto poi rotom pokémon plasma tipo elettrospettri un pokémon estrioso che parrebbe un fuoco fatto e composto di elettricità è un astuto vichino a cui è opportuno prestare attenzione per il proprio basso il pokémon bussola tipo rozzo acciaio genera forti campi magnetici con cui manovra la sabbia ferosa immagazzinata a ghisa di baffi attacca le prate con due serci e le abbatte poi bergmite pokémon ghiacciodi morano i picchi ammantati di nevi perpetue protegge le membre d'osservo cimiero glaciale formato generando l'umidità dell'aere poi swinab pokémon maiale tipo ghiaccio terra con il suo celetto affatto trova funghi sepporti alle abbatte nella neve taletto che da lungo tempo torna sememente utile alle genti torna semplicemente utile alle genti di isui poi mammo swin ha copertato per di parlo swine perché perché si pokémon due zanne giunse all'apice dello sviluppo durante l'epoca glaciale il grigore del clima di isui si con falso organismo e ha forse destato in lui un potere latente poi c'è il meco park over in campana questo l'ho incontrato lungo il sentiero memore day che vi ho detto prima le pendicicola da qui tra l'altro non so se arriva il laghetto che avete visto prima nelle clip ma se risalete con sdizzle la paghetta adesso sulla destra arrivate una zona che se non sbaglio si chiama piazza pia dove lì ho trovato i cingling e uga iperio alfa risalendo ancora una volta la parete sulla destra invece di quella zona lì raggiungete la zona ampia dove ci sono le statue di diagra e parkia spero di essermi spiegata bene pokémon ben campana comunque all'incirca se risalete le pareti comunque vi orientate perché i posti poi si memorizzano perché sono riconoscibili in genera onde darei capaci di sorvecchiere pretebbe più grati di lui stimo che catturare cresca il debole suono del vento nel vacuo corpo poi snizzone pokémon la martiglia e questo l'ho trovato al laghetto tipo rotta veleno possiede dei robusti artigli la cui foggia dunca gli consente di varicare scoscesi di rupi le estremità stilano veleno caracca danno i nervi delle prete catturate poi abbiamo qui lo spoiler della forma di avalag di isui perché è voluto bergmite puntualmente in avalag pokémon iceberg tipo ghiaccio roccia rispetto al suo discendente un po' più sfigato questo avalag ve lo dico già perché è debole a tutto è debole a 150.000 eventi diversi invece magari l'avalag moderno che è solo di tipo ghiaccio è un po' più fortunato la motore a glacia è di cui insomma debba la mantanta è più dura della cera freddo ma la roccia senza sforzo avanza peglia ardizzi sentieri montani facendosi largo in aria stabile tra le neve infatti sembra uno spazzo a neve con quelle cose poi golem poker megatone tipo roccia terra di questo ha catturato l'alfe in quei sentieri di cui vi parlavo prima che poi c'era anche il sentiero con misbagius e comunque erano tutti sentieri nella zona ovest scusatemi della mappa delle pedicicola quindi semmai se può aiutarsi può essere più utile come orientamento una volta all'anno muta i consorciosi che si sgretano e ritorna a essere terra si spassa nei campi tale terra favorisce la crescita delle colture poi ride on pokemon trapano tipo terra e roccia che questo ha catturato sempre le pdc le sei lunghe settimane mordei rotte al collo a tanta velocità per perfurare la roccia la sua cute solida come una corazza ben tolle alla lava di crescenti lande vulcaniche poi garchomp finalmente ha completato anche poco match bello tipo di agoteca si libra nell'aere in magnifica pose con foca tarda e l'udere d'occhio umano occorre cautela se non si incontra lo stato brano per via della sua tempia ferina quindi magari quelli docci quelli non è quelli a domenica quelli degli alleatori magari sono domesticati e infatti quelli salvaggi invece no gleli pokemon tutto muso il nome dice tutto e poi a me con quei del toni lia faceva sempre fatto in posizione ma va bene avvolge le membri nella matura di ghiaccio dura più dell'acciaio con il fiato che aggirà la peda e la stima nello stomaco a mo' di sorbetto a mo' di sorbetto che termini per misbagius pocamo stegone si evolve dalla misdravus con una neuropietra comunque invitato sei invitato sei gradito in ogni casa per i suoi incantesimi apotropaici apotropaici non so bene la pronuncia di questa parola l'italiano arcaico non di meno è bene non indisporlo o a poter aggirà di sciacquire capito quindi se un misbagius vuole farti visita va bene lascia che lascia che sei tuo ospite greperio poi pokemon trappolo che ho detto che ha catturato l'alfa in quella zona lì chiamata piazza parghia se non sbaglio se non si chiamava piazza parghia si chiamava in altro modo comunque vedete come si raggiunge alle pendicicola in nuova mania perlomeno prima pokemon trapano si è voluto per mezzo di un sicurale strumento ecco allora ridon si evolve e riperiorg aspettate un attimo non mi ricordo con quale strumento comunque questo l'ho ottenuto catturando nell'alfa usando la copertura lo strumento chiamato copertura usate la copertura su ridon e ottenete riperiorg strumenti come la copertura si possono trovare nelle distruzioni spazio temporali tra l'altro o ha sempre l'ufficio scambio tra virgolette tra l'altro parlando di distruzioni spazio temporali mi è capitato di entrare di entrarci dentro un paio di volte fiamme ha recuperato un paio di oggetti utile devono avere alcuni pokemon e ho incontrato anche un paio di pokemon nuovi che hanno trovato di soli quindi dopo vedremo anche le loro pagine si è voluto per mezzo di sicurale strumento l'acuta è simile a pietre composta da materiali ignoti in scala fibri di pressione alle mie pregiate poi gliskor pokemon scorpidente di questo ho trovato l'alfa pokemon taga volante per l'alfa l'ho trovato e qui non so bene spiegare come spettato un attimo anche per capire come spiegarmi l'ho trovato se non ricordo male sempre proseguendo lungo il settore memore dei scavalcando però la parete iniziale una roba del genere si si perché poi dopo tali si è comunque aggiungeva il laghetto perciò era in un angolo quindi insomma del sentito solo che è in un biconane corvine senza produrre rumore al culo per di poi azzonare quel canile fiati la cura delle prede non è parco affinché non è parco finché non è più usciura le vene è un vampiro in tutti i sensi poi clivor pokemon scuri tipo quello 8 roccia abbatte avvi questo strumento come si è evoluto l'abbiamo visto col si è evoluto da shite grazie a non mi ricordo la non mi ricordo cosa si chiamava lo strumento spettato un attimo come si chiamava oggi tenersi abbatte alberi con le grezze asce mentre difende le mebre a condurapiette tindole brutale si è incontrato in natura non resta che la fuga poi dopo qui ha una clip in cui recupero una fiammella a lungo questo questo sentivo ben voglio anche trovato uno stile x alfa ma va bene ecco qui vedete un po nella pratica quello che vi ho detto prima ecco qui ho trovato una fiammella mentre mi stavo dirigendo alla piazza dove si stava il cingling presumibilmente ecco si infatti perché poi ho completato la pagina però che non sono agli intollerabili val di testa sago chiunque ascolta il suo canto perciò non escludere che contenga suoni percettivi all'orecchio umano poi eccolo qua quest'ora di pokemon che ho incontrato una distorsione in una distorsione spazio temporale del pedicicona assieme a lui ho trovato anche shillons quindi al pedicicona con le pokemon esclusivi ho capito che si possono trovare nelle distorsioni i due pokemon fossili di quarta generazione pokemon cranioso questi pokemon si preso assediato lottano tra semi ricorzando le due teste che risuono con le famose campane poi shillons eccolo qua pokemon schermo una creatura grademente misti grandemente misteriosa per lo più sconosciuta dentro le gentili fuggi alla lotta preferendo l'edicare il viso contro la bene rocce poi lo evoluti bastiodon pokemon schermo tipo roccia accioio vando la difesa inespugnabile grazie al viso massiccio inscalfibile al pari di un diamante i suoi abetati e altri dati ecologici restano prevalentemente ignoti per finire campardo se proprio un cranioso tipo roccia poco si conosce sulla sua biologia batte grandi abbe con il contudo dei tecani a cui bellezza rammenta quella di una perla poi finalmente pari su vado a pulsare con lo pokemon suino il lungo vello ricopre non solo occhi e falci ma pure gli arti proteggendolo da temperatura roste e sgomina gli nemici gli nemici con le bianche zanne poi zowa pokemon gancor volpe tipo normale spettro una combo stupenda di elementi perché appunto ti rende immune altri elementi diversi perché è debole al normale allo spettro e al tipo lotta ed è debole solo al tipo buio più dire della solita che poi è l'elemento del suddiscendente ma fa bene spirito defunto uno spirito defunto tornato a nuova vita nella terra di isui il suo sdegno si fa energia e più male dal capo tramutandosi nell'avversario per esigere vendetta ok poi zora che proprio male di volpe il velo candido scambigliato cane che abbia lo fa somigliare a divinità mortifera il profondo astio ne dilagna le membra portando ad abbatarsi il suo inimico pronta a condividerne la amara forte ok come al solito cose con i pipetti più spettro snorberg pochino snorberg pochino albergine paga ghiaccio è assai probabile incrociando fra le nevi si riceve siti insediamenti umani non per cardano la prestigia amicizia con gli infanti beh uno ieti ci sta classico che lo ie che che lo ieti il mostro delle devi non sia mostro pericoloso ma siccome non vede mai nessuno quando vede delle persone va a far ma prova fa amicizia in effetti in quelli che incontrato non ne hanno per niente ostili a boma sono poca un alberge lo con ghiaccio atta fra tu me lo c'è nicolaggio ma sopporta le interazioni preferendo una montava un e montano o verso l'azassi con la neve è colui l'opposto fantastico ok dopo qui la missione del fagiolo supremo giusto il caffalo costino ce l'ho che dici cominciamo subito qui si cucina ecco fatto ora basta appoggiare già tutto sopra il vaso abbiamo finito capire che succede ora il giorno da cambiato aspetto sarebbe questa rivoluzione di cui si fa gran parlare e che neri sottaceti sono ancora meglio di quanto mi aspettassi la loro bontà raddoppiata chiamerò la mia accrezione doppi accetti è il nome giusto per il sottaceto definitivo con l'aiuto dei pochi amo per figlio di tutti i culinari si espandola a dismisura anche questa volta il merito è tu ti ringrazio ok mi ha mandato avanti troppo velocemente sti segnali qui invece io arandossidiana ok posto presto averlo già riconosciuto siccome c'è lo snorlax più amanti c'è l'isola rosa lungosa qui a destra c'è il lago verità fiammella l'ennesima e con questa me ne rimanevano 11 poi dopo cosa c'è in questa io cacatuno la casi questo vabbè è uno degli utili pokémon di concopertato la pagina ieri ho scoperto ragazzi che i pokémon avete presente ho scoperto che ha ecco perché ho registrato questa clip perché c'è una fiammella ok quella la lisa sorgosa quindi lo separa la stessa zona eccolo qua a canza un po così con la mole e il peso che adesso capo crescono quanto più avanza con le tagli studi mostro che è più grave che più è grave il capo maggiore se potete sì che ciò che più di più pesa la testa più che qui invece nella piana ferdi cavallo mi ricordo e avevo trovato un'altra fiammella l'ennesima sono l'ergo ah se intanto stavo accogliendo dei porri per la richiestuccia di tela vi ricordate la bellissima quella bellissima richiestuccia di tela che proprio chiedeva una cosa poco di poco proprio 100 porri solo poi dopo qui però in cima qui a sinistra c'è l'argo verità eccolo ecco avete visto per l'ennesima volta una fiammella a fuori di raccogliere il fiammello fiammella ragazzi sono arrivata ad avere come fiammelle rimanente da trovare in almeno tre sotto regioni una decina di fiammelle all'incirca quella la famosa caverna di mesprit che ho scoperto essere bloccata da una roccia vabbè un giorno potremmo entrare poi ho voluto il togetik il togetik che avevo con la pietra brillo con una pietra brillo che avevo trovato la distorsione spazio temporale in togekiss o togekiss non so come si lega comunque pokemon festa tipo folletto volante viene avvistato di lato alcuni ripeti letterari giunti fino a noi mi porto a concludere con assoluta certezza che si prese qualora la pace regni sovriale nel mondo ok qui invece ero e alla reale della riparte che stavo cercando bozla e poi dopo non ho più trovato intanto ho catturato un hansgro alfa che mi servirà comunque per completare la sua pagina ho scoperto ragazzi che i pokemon alfa si liberati ti danno delle rocce impegno che dopo vi spiegherò cosa servono perciò off camera verso la fine della giornata mi sono messa a catturare un po' di alfa doppioni e poi liberarli per guadagnare un altro mucchietto di rocce impegno perché perché sì perché poi vi serviranno per terminare i potenziali per arrivare potenzialmente definitivi per la squadra a fine gioco però dopo vi spiego meglio quello che ho fatto sei qui per accogliere materiali anche tu anche la squadra di ricerca un bel po' di esperienza di fare a te non è così sai io sono della squadra manifatturiera ho sempre sentito una certa affinità con voi visto che abbiamo fatto conoscenza di segnalare una ricetta per qualcosa di dolce e poi delizioso è tutto il dolce e gatto a ok vabbè dai contoni rossi potete ben capire che con una volta il mio stealth ha lasciato desiderare mi hanno colpito tutti ma qui c'era un'altra fiammella per questo ho ripreso bene che finivo sempre queste clip cercando di far capire dove mi trovavo in quanto andò bene l'aria comunque lì vedete il capo diamante quindi avete capito dove sta questa fiammella tra l'altro qualche ci penso io non l'avevo visto allora quella fiammella la che c'era la fine della clip comunque vabbè poi hanci che ho pochino un gran capo tipo buio volante un solo caso di protesta creatura richiama stuoli di macro che oscura nel cielo come se fosse notte stendendo una colta e corvina sul mondo poi dopo qui ero alla costa oltremare in un punto che non l'abbiamo mai visto perché per raggiungerlo per aggiungere questa spiaggia o un disola cosa ho fatto sono andata sul sentiero che abbiamo fatto per raggiungere guaran e poi avete pensato che i boschetti che abbiamo fatto abituire degli iphone bene ho scavaccato la parete con sdisler e sono arrivata alla cima di questo enorme monte qui catturando dei grottis perso andato solo dall'altra parte della rupe e mi sono ritrovata nel sentiero fonte che penso vi ricordate tutto il sentiero che porta la grotta di ritorno riguarda la grotta ritorno luogo in cui un intento si manifesta ghigliatina che vive ricordiamoci è l'ipoccoli cedale che vive nel mondo invece nel mondo distorto vabbè avete capito nel caso di cui non ve lo ricordiate adesso ve lo ricordate tra l'altro ho portato già interare nella grotta di ritorno è solamente una stanza il conto più grande ma vabbè in cui adesso non c'è niente amato a metrugione incontri il mio pokemon leggendario il pokemon esplorante tipo fuoco roccia questi pokemon pattuglia il territorio in coppia in base alle mie indagini la presenza di componenti di rocci in l'orello potrebbe cagionata dall'attività vulcanica poi con le pietre fuoco ha voluto uno dei due growth che avevo ottenuto nei pascoli in arcane bellissimo sempre arcane pokemon leggenda tipo fuoco roccia stringe le prede con le zanna sviluppate il govente foco e celle nelle finte nonostante la cosidderevole stazza le sue movezze mette schienesce gli nemici che assimilia assimiliano a una danza per concludere qua assi sono andata con un ultimissima cosa della giornata da andata datella e aderle ecco qua i po i pochi vedo che racconto c'è troppo l'officiale vuoi consegnarmi li prego sono di ottima qualità con questi poter preparare un sacco di medicina sai non bastano mai con tutti i feriti che abbiamo ogni giorno per chi se ne intende di fare da te come te non è il suo problema per gli altri nella scritta medica doveva ottenereci sempre pronti in caso di bisogno permettere decisamente in quella che sono due strumenti che vabbè potenziano le statistiche vabbè valido la tarota e va bene bene signori abbiamo finito di vedere tutti gli ex che ho fatto fate conto che a cazzo di pipa che ho catturato l'ho catturato lungo il settore fonte a fine del settore fonte c'è un laghetto oltre al laghetto che porta la grotta ritorno ho catturato c'è la pipa pli purtroppo non sono riuscita a catturare in modo stealth però avevo riuscito a prenderlo perfetto si cancellano 51 elementi micchia via si torna qua o dunque adesso vi dico un'ultima cosa per determinare questo episodio di gregoire dell'ennesimo qua perché prima vi ho fatto il verità che possiamo rientrare zonwark nella sua pokeball non sono fatto se le ragazze di livello la squadra un pochino andando a combattere ripetutamente la pilla all'area del lamento parlando con hendy quella meccanica che aveva visto nello scorso episodio vabbè ma se adesso faccio notare una cosa guardate qui le statistiche notate qualcosa di diverso vedete ragazzi quei 10 che ci sono a fianco a difesa speciale difesa e ps bene sono possiamo chiamarli livello impegno ecco l'avete intuito il 10 è il livello massimo il livello impegno ragazzi di una statistica in particolare di un pochino si può far salire aumentato costi di conseguenza la statistica in questione tramite gli oggetti impegno che sono in odio e cosciente la sabbia impegno la gara impegno le pietre impegno e le rocce impegno le salvi impegno servono a far salire fino al livello 3 le statistiche per il livello impegno insomma la ghiaia servono a far salire fino al livello 6 le pietre fino al livello 9 per concludere le rocce servono per far salire fino al livello 10 che è livello massimo ecco ho già iniziato ho intenzione tra fine del gioco e i tuoi sfide di fine del gioco potenziare tutte le statistiche e tutti i livelli imperdi arma squadra a livello 10 tuttavia per farlo mi serviranno parecchie pietre rocce impegno soprattutto adesso perché ormai tutti quanti ne ho aggiunto almeno il livello 6 quindi le ghiaie e le sabbia non mi servono più le rocce impegno le recuperate come ho detto prima liberando soprattutto pokemon alpha quindi off camera mi sono permesso di catturare i doppioni e tra l'altro quando 4 ore degli alpha ti danno pure un botto di pochi soldi perciò ci ho guadagnato anche un pochino e vedete che ho potenziato tutti quanti già la statistica di dei punti salute tutti quanti già a livello di impegno a livello massimo per i punti salute tanto qui vedo che un saluto proprio raggiunto il top del top con le statistiche che statistiche che a 400 403 di punti vita ok poi dopo potete tutti quanti in base come stava ammesso i loro statistiche iniziali oa difesa speciale oa difesa fisica e vedete che a saluto metodo la difesa speciale oa al 200 le prate la difesa normale a beauty fra aumentata la difesa fisica e dei prati di quale normale vabbè stessa cosa per silvio a difesa fisica che vedete che già di suo silvio c'era una difesa speciale allucinante quindi bisognava potenziare per tutta la difesa fisica per gang ho potenziato per lo stesso motivo la difesa fisica poi è un saluto potenziato anche se magari a lei non serviva tanto però io ho fatto io ho fatto io ho dato lo stesso per completismo e io ho fatto le ho fatto salire fino a livello massimo le il livello libero della difesa speciale per concludere a zora che invece ho fatto salire a livello massimo lest sia la statistica di difesa che difesa speciale perché diceva per seri zora che punti dopo c'è una bella potenza d'attacco in compenso c'ha una difesa piuttosto scala quindi era bene per per il per lui potenziare già queste sue statistiche il risultato è si è fatto sentire off camera perché è riuscito a raggiungere colpi anche di porcavon con 10 livelli più di lui detto questo non ho altro da no si ultima cosa da far vedere a far notare che ho fatto sì che tutti quanti i miei pokemon padroneggiassero tutte le mosse con padroneggiare si intende che riuscissero ad usare tutte le mosse vabbè non considerando falso finale falso finale le loro massi le varie mosse con padroneggiare si intende fare in modo che potessero utilizzarle come tecnica apita e potente e poiché la maggior parte delle mosse erano state apprese dalla pilla all'arrenamento per far sì che i miei pokemon potessero padroneggiarle e potessero riparare ad usare con queste tecniche apita e potenti ho dovuto sono dovuta andare dalla pilla e tutte le volte del voglio che il mio pokemon padroneggi questa mossa e lei chiedeva ogni volta un semi padronanza ecco semi padronanza si possono sempre i semi si possono sempre raccogliere dagli alfa sconfitti o catturati e cioè dipende dipende da quello che volete fare quindi il risultato è che adesso finalmente sarà molto può ha padroneggiato già lo raggio falso finale l'ho lasciato perdere perché si è sempre una mossa che imparato la pilla però non mi serve da creare rapida e potente per il falso finale poi beautyfly ha imparato a padroneggiare ricordo sanguisuga era assalto dell'erogipalla così invece l'aveva imparata naturalmente con le mosse quindi l'aveva già padroneggiata poi l'ifron ho fatto in modo che padroneggiasse tutte le mosse perché tutte queste mosse che vedete le ha padroneggiate le ha imparate dalla pilla poi dopo a ganga intanto vedete che le ho insegnato assorbi pugni a posto di pallaromba perché guarda definitivamente quello che tiene mosse di tipo spettro è divenuto zogorak e anche le mosse di tipo buio per questo assieme a samuroth e anche qui ho fatto padroneggiare con i semi padronanza tutte le mosse perché tutte queste mosse le ha imparate dalla pilla tra l'altro le ho poi inserite fagobomba a posto di veleno shock che è la protezza 80 poi qua russa luna ho aiuto poi dopo qui invece russa luna padroneggiato giroforza e basta tutte le altre mosse le aveva imparate naturalmente per concludere qui a zogorak avevo cambiato tutte le mosse che aveva e io ho insegnato due mosse di tipo spettro una fisica una speciale ossia palla ossia ombra attiglia e palla ombra e poi una mossa tipo fuoco che lancia fiamme perché non si sa mai e per concludere ne ho pulso tutte queste le parti della pilla perciò ancora una volta qui le ho dovute padroneggiare tutte con sue padronanza bene detto questo possiamo fermare il episodio qui il check up l'abbiamo fatta con una volta nel prossimo episodio possiamo vedere di dirigerci ecco riprendere la nostra avventura principale ai ghiacci candidi direi non andando a parlare con notice che dobbiamo andare a parlare con notice che è capitato di pelle che si occupa di apalaga per continuare nella storia ma diedi riprendere più tardi andando a completare con la missione secondaria che ci avevamo lasciati in sospeso la scorsa volta perciò volevo togliermela prima possibile così per dopo potevano andare spediti per l'appunto nella modalità storia perché finito il capitolo 5 come potete bene immaginare succederanno cose perché avalga l'ultimo poche regale che c'è sta a plagare quindi succederanno senz'altro cose ma non scopriremo tutto questo e spero dopo domani è più tardi ragazzi